Buongiorno a tutti i telespettatori di Medicina Facile. Oggi parliamo di un difetto anatomico del cuore, il forame ovale pervio conosciuto anche come buco al cuore. È piuttosto diffuso, è potenzialmente grave. Quando e perché va chiuso e soprattutto come fare? Ce lo dirà il nostro graditissimo ospite. Buongiorno e benvenuto nei nostri studi al dottor Franco Prosperi. Buongiorno a lei, ai telespettatori e grazie dell'invito e dell'opportunità che mi dà di parlare di questo argomento. Grazie a lei per aver accettato e sono assolutamente convinto che riusciremo a far capire che cos'è intanto questo forame ovale pervio e come chiuderlo visto che è un buco del nostro cuore. Dottor Franco Prosperi, specialista in cardiologia a casa di cura Pierangeli di Pescara. Intanto iniziamo con quanto accade nella vita fetale con riferimento ovviamente alla possibilità che si formi questo forame ovale pervio. Dottore. Certo, se possiamo partire con le immagini è più facile comprendere. Diciamo che il forame ovale pervio non è una anomalia, ma nella vita fetale, cioè nella vita prima del parto. Il forame ovale pervio permette un dirottamento del sangue dall'atrio destro all'atrio sinistro perché i polmoni del feto non sono funzionanti, è la mamma che respira per il feto con la placenta e quindi non c'è bisogno che il sangue fetale raggiunga i polmoni. Per questo viene dirottato dal latrio destro all'atrio sinistro. Quindi diciamo che nella vita fetale è una necessità essenziale il forame ovale. Brevi accenno all'antomia del cuore per spiegare che cos'è questo forame ovale pervio. Che cosa succede quando il parto viene espletato? Se possiamo andare avanti con le fotografie. Quando il parto viene espletato questa pervietà del forame non è più necessaria in quanto i polmoni cominciano a funzionare e quindi questo dirottamento del sangue da una cavità all'altra non è più necessario. Nella maggior parte dei casi il forame che è cerchiato in rosso, che fa vedere in questa diapositiva il transito possibile dal latrio destro all'atrio sinistro. RA sarebbe latrio destro e LA latrio sinistro. Nella maggior parte dei casi questa pervietà viene perduta in quanto i lembi che costituiscono il forame ovale si saldano fra di loro e vengono cicatrizzati come una porta in cui l'anta viene serrata con una chiave sulla parete che accoglie questa porta. Questo è quello che accade nella maggior parte dei soggetti. Questa è una diapositiva che ci fa vedere sempre il forame ovale. Lì sono indicati praticamente gli elementi di questa specie di valvola che sono il septum secundum e il septum primum. Non ci lasciamo spaventare dai nomi, ma sono i due elementi costitutivi praticamente le ante di questa possibile apertura. Questo è il paragone della porta che è molto efficace perché uno degli elementi del forame ovale è ampiamente mobile e basta una pressione maggiore da una parte rispetto all'altro per movimentare questa porta. Questo non accade se noi la porta la chiudiamo a chiave e quindi questa possibile pervietà, questa possibile comunicazione fra i due ambienti viene meno. Questa è un'altra diapositiva che ci fa vedere sempre il forame ovale pervio e alcune varianti anatomiche. Vedete a sinistra un forame ovale pervio in cui l'anta di questa porta è abbastanza rettilinea, a destra che è un pochettino dilatata, ridondante, questo è un aneurisma del forame ovale pervio, cioè una variante anatomica che spesso si trova. Questa diapositiva non fa altro che riportare quello che abbiamo detto. vedete i due atri con una possibile comunicazione indicata da PFO che è l'acronimo di forame ovale pervio. Viene usato questo acronimo perché il forame ovale pervio diciamo è una frase per identificare questa porta del cuore. Per identificare questa possibile comunicazione. Senta, è un difetto congenito? Allora, intanto vorrei dire che il forame ovale pervio in quanto tale non è un difetto ma è una variante anatomica. Significa che una certa percentuale di soggetti perfettamente sani conserva la potenziale comunicazione fra un atrio e l'altro proprio perché i due elementi costitutivi del forame, cioè l'anta di questa porta non si sono cicatrizzati fra di loro, l'anta di questa porta non è stata chiusa a chiave, quindi in determinate condizioni questa porta può essere socchiusa. È sempre grave o potrebbe essere potenzialmente grave? Mi aiuta la prossima diapositiva a rispondere alla sua domanda. A sinistra vediamo un cuore in cui il forame ovale pervio non c'è più perché gli elementi che lo costituiscono non si sono cicatrizzati, quindi non c'è nessuna possibile apertura, nessuna condizione. Nel secondo caso invece questi due elementi non si sono cicatrizzati e quindi sotto determinate situazioni in aumento della pressione toracica il forame ovale pervio può diventare transitoriamente aperto. Se andiamo avanti vorrei spiegare come l'incidenza del forame ovale pervio nei soggetti normali è del 20% di tutta la popolazione sana, cioè una persona su 5 ha una pervietà del forame ovale senza che questo costituisca una patologia, ma costituisce semplicemente una variante della norma. Se facciamo riferimento alla nostra regione, l'Abruzzo, che conta circa 1.300.000 abitanti, l'Abruzzo avrà 260.000 soggetti col PFO, ma questi non sono pazienti per il cardiologo, sono persone normalissime che non sanno di avere il forame pervio e per i quali uno screening su larga scala per identificare il forame non avrebbe nessun significato. Hanno sintomi queste potenziali persone con il forame ovale pervio? Il forame ovale pervio spesso si associa con l'emicrania, è un marker, l'emicrania è un marker, quindi non è una condizione che deve allarmare, è un marker che sottende spesso la presenza del forame ovale pervio. Però il forame ovale pervio acquista una sua dignità medica, crea delle situazioni, diciamo, da considerare dal punto di vista medico quando si associa ad alcune patologie. E allora la valutazione del forame ovale pervio e la sua ricerca diventano importanti. Quali sono le patologie che sono in qualche modo correlate col forame ovale pervio? Correlate significa che nessuno studio ha dimostrato che la presenza del forame ovale pervio sia la causa diretta di queste patologie, ma l'associazione fra queste patologie e il forame ovale pervio è altissima e quindi in qualche modo i due fenomeni sono correlati. Il primo delle situazioni che è quella che io ho sottolineato, è quella che crea più allarme e diciamo costituisce la maggior parte della tipologia dei soggetti che afferisce prima dal neurologo e poi dal cardiologo è l'ictus nei soggetti giovani. Soggetti adolescenti, giovani o con età inferiore ai 50 anni che abitualmente non hanno fattori di rischio cardiovascolare in grado di giustificare e produrre eventi schemici così importanti, se io vado a ricercare in questi soggetti giovani la pervietà del forame ovale, vedrò che in questi soggetti, in una grandissima percentuale di casi, molto di più del 20% della popolazione normale, io troverò una pervietà del forame ovale. Quindi in questi soggetti l'identificazione di un forame ovale pervio comincia a diventare una situazione da considerare. Poi abbiamo visto emicrania, affaticamento cronico. Queste sono patologie meno comuni, non meno importanti. L'emicrania come abbiamo detto è più che altro un marker di forame ovale pervio. È facile che un soggetto affetto da un'emicrania cronica sia portatore di un forame ovale pervio, ma questo non significa che lo debba chiudere se questa è la presentazione. Chiarissimo. E poi c'è una, diciamo, non abbiamo la possibilità di sviluppare questo argomento, ma ultimo nell'elenco, ma sicuramente non ultimo in classifica, è la presenza del forame ovale pervio nei subacquei che hanno avuto manifestazioni neurologiche, nonostante si siano attenuti scropolasamente alle tabelle di decompressione. In questi soggetti la ricerca del forame ovale pervio può avere un'importanza molto grande. Le più gravi, dottor Prosperi, quali sono tra queste patologie? Diciamo, quelle più attuali per il loro impatto sono sicuramente i casi di soggetti giovani che hanno patito ictus, cosiddetti criptogenetici, da cause sconosciute. Vorrei far notare in questa diapositiva come se nei soggetti normali l'incidenza, la prevalenza del forame ovale pervio è solo del 20%, se io lo vado a ricercare nei soggetti che hanno avuto l'ictus giovani senza altre cause apparenti, troverò 40-50% di forame ovale pervio. Questo a significare che c'è un'associazione fra queste due patologie. È il neurologo che ci conferisce questa tipologia di pazienti. Questi pazienti hanno primo percorso neurologico e poi afferiscono al cardiologo. Altra diapositiva? Questa diapositiva vuole dimostrare praticamente i meccanismi potenziali, perché ancora non c'è certezza sui meccanismi potenziali con cui si verifica l'ictus. Quella immagine, quella che ho disegnato in nero, è un trombo. Questo trombo nella figura di sinistra proviene dalla periferia, spesso dalle vene cave in soggetti che hanno varici o patologie del bacino. Che cosa fa questo trombo? Raggiunge l'atrio destro, abitualmente dovrebbe andare nel ventricolo adesso nel circolo polmonare. In determinati casi si impegna nel forame ovale pervio, quindi c'è un comportamento paradosso e va a finire nella circolazione sistemica. In altri casi si pensa che il trombo si formi direttamente nell'intimità del forame ovale pervio, cioè in questa porta semi-accostata. E quando si apre viene liberata in circolo. Dottor Prosperi, quali sono i segni e i sintomi tipici di questo forame ovale pervio? I sintomi che allarmano di più e che conferiscono in genere questi pazienti al neurologo e poi al cardiologo, alcuni sono molto affidabili, molto importanti. Sono i disturbi motori, soprattutto disturbi nell'articolazione del linguaggio, disturbi visivi, sono quelli diciamo che hanno più probabilità di avere sostanza. Meno affidabili sono i disturbi sensitivi, i cosiddetti formicolii, parestesie, in cui è più l'allarme che il reale riscontro di una pervietà del forame ovale. Ma in ogni caso questo è il corteo di sintomi che si associa al PFO nei casi di ictus. Che esami vengono prescritti per una diagnosi certa? La ricerca del forame ovale non è una ricerca complicata. Se possiamo mandare la prossima diapositiva, l'esame di primo livello, quello più semplice, è un ecocardiogramma o transtoracico, cioè appoggiando la sonda sulla superficie del torace o in caso di scassa risoluzione dei soggetti con una finestra acustica sfavorevole, cioè in cui non si vede bene, può essere fatto l'ecotransesofageo, cioè la sonda viene inserita nell'esofago che ha una stretta rapporto di vicinanza con il cuore, quindi permette una buona visualizzazione. Ma in sostanza l'ecocardiogramma è l'esame di primo livello e si associa all'ecocardiogramma, alla somministrazione attraverso una vena del braccio di una soluzione salina agitata, sonicata, in modo da fare acquisire a questa soluzione la capacità di contrastare le immagini. In questa immagine vediamo che nelle sezioni di sinistra del cuore, che corrispondono all'antiodesso e al ventricolodesso, arriva tutta questa soluzione salina agitata, iniettata nel braccio e un po' di questa soluzione salina attraversa il setto interatriale e va a finire nelle sezioni di sinistra a documentare il fatto che c'è una pervietà del forame ovale. Una diapositiva successiva mi sembra di un'altra immagine di un altro paziente in cui ci sono queste due fasi, a sinistra l'iniezione in una vena anticubitale, una vena del gomito in una soluzione di salina agitata e a destra lo stesso paziente che viene invitato a produrre un aumento della pressione toracica con la manovra di Valsalva, cioè spingendo praticamente come quando si va in bagno un colpo di tosse e questo provoca un aumento della pressione nell'antrio destro, apre questa porta di cui stiamo parlando per rimanere al nostro esempio e un po' di soluzione sonicata passa a sinistra, dimostrazione che il forame ovale è sotto determinate condizioni, si apre e consente il passaggio. C'è questa porta aperta? Questa porta si discude. Senta, le chiedo, il trattamento può essere farmacologico almeno nella prima fase meno grave, diciamo così? Questa è una domanda complessa perché non c'è accordo nelle linee guida sulle modalità di trattamento di un forame ovale nei soggetti che hanno patito un ictus e soggetti giovani. Perché non c'è accordo? Perché nessuno studio ha dimostrato che fra il forame ovale pervio e l'ictus esiste un rapporto di causa-effetto. Quello che noi sappiamo è che c'è una strettissima correlazione fra queste situazioni, ma nessuno studio ha dimostrato che uno è la causa dell'altro. E allora la comunità scientifica internazionale consiglia alcuni parametri terapeutici che però non sono stati validati da certezze. La terapia più semplice è la terapia medica che consiste sostanzialmente nella somministrazione di farmaci antiaggreganti, la nota cardioaspirina o farmaci simili, proprio diciamo nell'ipotesi che sia stato un trombo a generare questa situazione. Negli eventi invece più importanti, in cui c'è la probabilità che questo fenomeno ricorra, che si verificano delle recidive, se ne consiglia la chiusura, la obliterazione del forame ovale. Però, diciamo, fra queste due indicazioni che sembrano agli antipodi, c'è molta zona grigia, molto, diciamo... Un po' lasciata la discrezione... Un po' lasciata la discrezione... Dello specialista... E anche alla pressione che ha il paziente, insomma. Invece, quando si ricorre alla chirurgia? Questa è una bella domanda, perché mi consente di rispondere che la cardiochirurgia non si ricorre mai. Perché il trattamento, l'obliterazione del forame ovale pervio non è un atto chirurgico, quindi non c'è nessuna operazione, nessuna incisione, nessun sanguinamento, nessuno... È una procedura cosiddetta di cardiologia interventistica. Cioè, l'obliterazione del forame ovale si ottiene mediante l'inserzione di idonei cateteri, direttamente da una vena della gamba, e con varie tecniche si provvede alla occlusione, all'obliterazione di questa potenziale comunicazione. Allora, abbiamo preparato due modalità di trattamento. Uno tradizionale e uno innovativo, che viene praticato proprio dal nostro ospite. Se lei è d'accordo, partiamo con l'illustrazione della metodica tradizionale. Possono partire queste immagini? Eccola qua, il trattamento. La metodica tradizionale ha tantissima storia dietro di sé, una storia più che ventennale, trentennale. Molte protesi, molti device, cosiddetti device, sono dedicati all'obliterazione del forame ovale pervio. Senza, diciamo, far torto a nessuno, questa diapositiva, un pochettino in maniera anonima, fa vedere quello che accade. Vedete le due cavità atriali, latrio destro e latrio sinistro, fra un atrio e l'altro, il forame ovale pervio è delimitato da quella freccia tratteggiata, fra una estremità e l'altra del forame pervio viene rilasciata una protesi costituista da due dischi, in questo caso ricoperti di tessuto, trattenuti transitoriamente da un cavo. Questo cavo poi viene liberato, per cui questi dischi creano una nuova parete, in qualche modo, diciamo, serrano come un sandwich i due elementi costitutivi del forame ovale. E questa è la procedura tradizionale. La procedura tradizionale ha, come tutte le procedure, dei limiti intrinseci. I limiti sono legati al fatto che presuppone il rilascio di una protesi nel cuore. E quindi alcuni rischi, diciamo, statisticamente molto bassi, però presenti nella procedura, riguardano proprio la presenza di una protesi nel cuore. Nel senso che questa protesi può essere oggetto di infezioni, di dislocamenti dalla sede dove è stata rilasciata, di erosioni sulle strutture attigue, necessita di una terapia farmacologica di supporto e può favorire l'incidenza di eritmie. Questi sono i limiti. È un intervento a cuore aperto questo? Non è un intervento, è una procedura in cui il paziente subisce un'anestesia solo perché su questo paziente si deve praticare un ecotransesofageo prolungato, che è una procedura come la gastroscopia che può creare un po' di fastidi, perché queste protesi vengono rilasciate sotto guida ecocardiografica. Quindi il paziente deve stare tranquillo, deve stare fermo e l'anestesia serve solo come supporto a questa procedura. Non c'è nessun taglio, nessun punto, nessun sanguinamento. Vediamo il metodo innovativo, invece. Eccolo qua, il sistema innovativo praticato dal dottor Prosperi. Il metodo innovativo a cui mi sono dedicato negli ultimi anni, negli ultimi tempi, trae spunto da un'idea geniale del suo inventore che, anziché presupporre il rilascio di una protesi fra un lato e l'altro del forame ovale, la sua intuizione è la seguente, di confezionare due suture sugli elementi costitutivi del forame, il setto un primo, il setto un secondo, serrare fra di loro queste suture e quindi obliterare la cavità senza lasciare nessuna protesi in questo ambito. L'idea è geniale e ha costituito il movente, diciamo, di questa poi procedura che è stata messa a punto. Eccola qua, la duplice sutura. Ecco, quello che ho detto qui è ben dimostrato da questa diapositiva. Le zone in grigio sono praticamente gli elementi costitutivi del forame ovale e invece quelle in azzurro brillante sono le due suture che attraversano l'una e l'altra parte del forame ovale vengono esteriorizzate, cioè vengono portate all'esterno. Su queste suture si fa scorrere, nell'ultima fotografia, una specie di nodino, una specie di cravatta che in qualche modo viene recisa e quindi il forame viene obliterato senza che nella sua intimità rimanga nessuna protesi, nessun corpo estraneo. Andiamo avanti con la nostra spiegazione, abbiamo anche dei video. Eccola qua, la metodica. Questo è un bel video demostrativo che fa vedere tutte le fasi della metodica in cui praticamente questo device si infila sotto uno dei componenti del forame ovale, un ago cattura come una vecchia macchina da cucire, ecco l'ago viene esteriorizzato, cattura la sutura e la porta fuori. A sinistra vediamo il mulinello della sutura che si sta svolgendo, praticamente l'operatore all'esterno avrà a disposizione i due capi di questa prima sutura. La stessa operazione viene fatta sul septum primum, sul secondo componente, praticamente la seconda anta di questa porta, viene catturato questo filo e questo device viene esteriorizzato e si trascina dietro l'altro capo della sutura. Quindi all'esterno avremo i quattro capi di queste due suture. Questa è la fase finale in cui le due suture vengono serrate fra di loro, così questa tasca che noi vediamo, che non è altro che il forame ovale e pervio, viene in qualche modo ristretta fra le sue componenti e il forame cessa di esistere. Con un sistema ingegnoso poi queste suture vengono recise a livello del cuore, sotto questo nottolino e quindi dentro il cuore non rimarrà nulla, soltanto queste suture in polipropilene e questo nottolino che le stringe. Diamo una diapositiva a questo punto che non mi ricordo se fa vedere, eccola qua. Ecco, queste sono procedure non dimostrative ma reali. Questa è una prima fase in cui un pallone viene inserito nel forame ovale e viene gonfiato per evidenziarne l'esistenza. È la prima fase della procedura, andiamo avanti. Velocissimamente vediamo le varie fasi. Queste sono le procedure reali che prima abbiamo visto nella demo, sono gli elementi costitutivi, le due suture che vengono catturate e esteriorizzate. Questo è il secondo device che viene inserito per catturare l'altro lembo costitutivo del forame, quello che abbiamo fatto vedere prima, andiamo avanti. E questa è la parte finale in cui viene rilasciato questo nodo, vedete non c'è più nessun device all'interno del cuore e la procedura è sostanzialmente conclusa. E qui siamo alla fine. Quanto dura mediamente questo intervento, dottore? I tempi sono variabili perché sostanzialmente questa procedura è costituita di tre fasi. Di tre fasi. Diciamo dai 30 minuti in su. Avevamo visto i limiti della metodica tradizionale, i vantaggi di questa metodica innovativa invece? I vantaggi sono abbastanza ovvi e sono essenzialmente legati all'assenza di una protesi. Se possiamo vedere la diapositiva, che lì in qualche modo li riassume, l'assenza di protesi fa sì che non ci siano rischi di infezioni, di dislocamenti, di erosioni, la necessità di una terapia farmacologica è scarsa o nulla e c'è una minore incidenza di aritemia. Quindi sono tutti vantaggi legati all'assenza di qualcosa che si rilascia all'interno delle camere cardiache. Chiudiamo, oltre che con i vantaggi, anche con un dovuto ringraziamento a chi collabora con lei e soprattutto a colui che si è inventato questa metodica. Allora, questa è una diapositiva del team con cui ho fatto una delle ultime procedure. È una diapositiva a cui sono affezionato perché quella figura al centro con la divisa Maranto non è altro che l'inventore di questa procedura che ha girato tutto il mondo. È un bioingegnere californiano che sta diffondendo questa procedura in tutto il mondo. se mi posso dire come si chiama, è il professore Anthony Nobles, che è una mente vulcanica che ha un confezione. È un cinquantenne che ha una serie interminabile di brevetti bio-medicali ma anche brevetti di altra natura. Ci vorrebbe una trasmissione intera per descrivere la simpatia e l'intelligenza di questa persona. Allora, magari la prossima volta quando viene in Italia, viene a trovarla, faremo una trasmissione con lui e naturalmente con lei. Grazie, grazie al dottor Franco Prosperi, grazie per essere stato con noi, specialista in cardiologia a casa di cura Pierangeli di Pescara, con lui abbiamo parlato del forame ovale pervio. Grazie a tutte le persone che hanno lavorato a questa trasmissione, Francesco Specchiulli in regia, Andrea Di Fabio in post-produzione, grazie a voi telespettatori. Ci vediamo la prossima settimana, naturalmente tratteremo un altro argomento. Grazie, arrivederci. Grazie a tutti.